Hashim Menahem, questo il suo nome assidico che significa conforto della vita, nacque il 18 settembre 1896 a Berlino da genitori ebrei che furono vittime delle persecuzioni razziali. Il padre finì nella camera gas di un campo di concentramento in Polonia, la madre morì suicida per disperazione a Parigi. Volontario del corpo della sanità durante il primo conflitto mondiale, al fronte lesse con ammirazione i libri del filosofo Martin Buber. Divenuto medico e pediatra dopo un'analisi freudiana, il dottor Bernard passò all'analisi junghiana e dal 15 ottobre 1935 al 17 marzo 1936 fu a Zurigo per lavorare con Carl Gustav Jung. Il lavoro e il loro rapporto complesso fu connotato da amichevoli avvicinamenti e lunghi silenzi, da stima reciproca e da una sorta di freddezza. Bernard comunque vide sempre in Jung un grande teorico e un punto di riferimento, un maestro verso il quale espresse eterna gratitudine. Per sfuggire alle persecuzioni razziali decise di andare in Inghilterra, ma il governo inglese gli rifiutò la richiesta d'asilo perché in essa il dottor Bernard affermava di interessarsi di astrologia e di tirologia, cioè la lettura della mano, e di applicarne le nozioni nella pratica analitica. Decise pertanto di venire in Italia, sulle orme dell'amato Goethe, in cerca della grande madre mediterranea. Nel 1936 è a Roma, dove entra in rapporto di amicizia con gli psicoanalisti Edoardo Weiss, Claudio Modigliani, Emilio Servadio e con l'orientalista ed archeologo Giuseppe Tucci, che avrà nel suo destino un ruolo importantissimo. Pioniere del pensiero junghiano, Bernard fu, a detta dei suoi allievi amici, uomo e analista originale, forse bizzarro, poliedrico fino allo smarrimento, maestro scomodo e segreto, sabotatore di luoghi comuni, guida spirituale, sciamano, libero, infinitamente libero, per la struttura psicoterapeutica ufficiale di allora. L'attività professionale di Bernard a Roma e poi a Bracciano, dove nel 1961 fondò l'Associazione Italiana di Psicologia Analitica, fu intensissima per più di 30 anni, con una sola interruzione, dall'estate del 1940 alla primavera del 1941. Il 18 giugno 1940 fu, infatti, arrestato, imprigionato come straniero nemico, prima portato a Regina Celi per otto giorni e subito dopo deportato nel campo di internamento a Ferramonti di Tarsia, in provincia di Cosenza. Nei dieci mesi da internato, Bernard visse con dignità ed umanità tra i suoi compagni di sventura, sostenendoli ed aiutandoli in vari modi e mantenendo fede al suo proposito di progredire nel processo autoanalitico di individuazione ed accettazione della sua personalità. Le 140 lettere di Ernst sono per noi un preziosissimo documento storico, sia pure in un italiano incerto e a volte criptico per motivi di censura. Il dall'abbandono fiducioso alla provvidenza. Ernst Bernard, che amava definire il suo orientamento psicoanalitico come il termine di psicologia del processo di individuazione, piuttosto che adottare la definizione dello stesso Jung di psicologia analitica, poco prima di morire, sentendo avvicinarsi il momento del distacco, scrisse nella sua autobiografia, ripensando alla mai dimenticata esperienza di sopravvissuto all'esperienza del lager, penso che mi peserà molto il non aver nessuno di cui prendermi cura e da far progredire, ma a mio conforto mi viene in mente che là ci sarà pure un corpo di guardia nazista, potrei prendermi cura di questo. Morì a Roma il 29 giugno 1965. Ferramonti era una contrada paludosa e malarica del comune di Tarsia, in provincia di Cosenza. Sottoposta nella seconda metà degli anni 1930 ad opere di bonifica da parte della ditta Eugenio Parrini di Roma, un faccendiere molto vicino al regime fascista. Il campo di Ferramonti di Tarsia fu l'unico esempio di un vero campo di concentramento costruito dal governo fascista, a seguito delle leggi razziali e rappresenta storicamente il più grande campo di internamento italiano. A partire dal giugno 1940 vi transitarono circa 3.000 internati. Il campo si estendeva su un'area di 16 ettari ed era composto di 92 baracche di varie dimensioni, molte delle quali con la classica forma adù e forniti di cucina, latrine e lavabbi comuni.